A restituire la scuola ai nostri ragazzi. Le famiglie sono preoccupate in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il Presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa, Salvo Sorbello, ha scritto ai sindaci dei 21 comuni per invitarle a predisporre al più presto tutto quello che è necessario per arrivare preparati all'appuntamento di settembre. Anche di recente, peraltro, alcune importanti sigle sindacali hanno affermato che al momento non ci sono le condizioni per cui le scuole riaprono in presenza. Appare incredibile, rileva Sorbello, che mentre le attività di gran lunga meno importanti di quella scolastica hanno da tempo ripreso a pieno ritmo e miliardi siano state distribuite ad aziende decotte come la l'Italia, ci siano ancora tanti ostacoli da superare per far tornare in sicurezza gli studenti sui banchi. Restano in solito i vari problemi. La misurazione della febbre dei bambini, ad esempio, verrebbe lasciata esclusivamente dalle famiglie che devono farlo a casa. Ma cosa accadrà se qualche genitore non vigilerà attentamente? Assai problematica la situazione della scuola dell'infanzia, dove non si deve rispettare la distanza di un metro. I bambini andranno divisi in piccoli gruppi, senza che però venga specificato cosa si intenda per piccoli gruppi e quanti insegnanti saranno necessarie. Docenti che hanno un'età media alta, il 75% a più di 45 anni, e autorevoli studi dimostrano come in altre nazioni ci siano stati numerosi casi di decessi e forme gravi di Covid-19 tra il personale scolastico. Cosa accadrà nel malaugurato caso che qualcuno, alunno, insegnante, personale e non docente, dovesse risultare positivo. Restano inoltre i problemi di istituti scolastici, già con gravi problemi strutturali, come la mancanza della certificazione di legibilità o di prevenzione incendio. Si individuino e si attrezzino per tempo eventuali spazi esterni da utilizzare. Si recluti il personale necessario. Si risolve il problema della sanificazione dei servizi igienici. Si programmino gli orari di ingresso scaglionati, evitando che le famiglie con più figli siano sottoposte a tour de force inattuabili. Si attivi per tempo il trasporto scolastico e si aprono finalmente gli asili nido. Per non parlare delle fantascientifiche nuove e costose sedie scolastiche singole. Che cosa accadrebbe nel caso malaugurato in un terremoto quando tutti vengono invitati a proteggersi sotto banchi che non ci sarebbero più? Ci auguriamo, conclude Salvo Sorbello, che si lavori allacremente per pianificare il ritorno a scuola nella normalità, seppur con tutte le precauzioni del caso. Le famiglie e i genitori che lavorano attendono con ansia di poter programmare il loro futuro e quello dei loro figli. È venuto il momento di restituire la scuola ai nostri ragazzi.